Ciao a tutti, come avevo annunciato venerdì, oggi voglio parlare dell'assegnazione agli Oscar, assolutamente in maniera marginale, ma più precisamente della fotografia, il premio assegnato alla migliore fotografia, Oscar 2020 a 2017, film di Sam Mendes. Allora, io avevo già preparato un discorso, ero già pronto a non essere agguerrito, però in maniera molto decisa, criticare la scelta di assegnare la fotografia a 1917, ok, prima che qualcuno mi punti il dito contro, ehi tu, ma che cavolo sei, ti permetti di criticare un film, poi addirittura un film come il 1917, che è candidato agli Oscar, eccetera, è vero, assolutamente è vero, però ho delle motivazioni. Io ho preparato tutto questo bel discorsetto, e poi cosa succede? Che quelle che erano le previsioni si sono assolutamente ribaltate. Infatti, il 1917 doveva vincere il premio come miglior film, miglior regia, miglior qualunque cosa, si è ritrovato, tra virgolette, relegato, e non ha torto, non ha ragione, sono sincero a questo punto, ad avere soltanto dei premi per delle categorie, tra virgolette, come si dice, tecniche, tra cui la miglior fotografia, perché incetta dei premi più importanti, quindi miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior regista, miglior regia, miglior film straniero, miglior film anche, Parasite di Bong Joon-ho. Quest'anno comunque tutte le candidature erano veramente ampiamente valide, forse come miglior film, ecco, magari Piccole Donne stonava un attimino, un gran bel film, ma addirittura candidato all'Oscar mi sembrava un po' eccessivo. Parasite veramente stra-ultra-mega meritato, è entrato nella storia, a questo punto, dell'Academy, il primo film in lingua non inglese, film parlato in lingua non inglese, a vincere un Oscar come miglior film, tanto più che il regista stesso non parla neanche troppo inglese. Un film divertente, critico, ci sarebbe veramente da elogiarlo in mille modi, Parasite, però non sono qui per elogiare, appunto, Parasite. Anche se devo dire che comunque i film di, io è da tantissimi anni che sostengo, magari non su YouTube, che sostengo che i film sudcoreani stanno prendendo veramente tanto spazio. È un tipo di regia, un tipo di filmografia completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Noi siamo abituati ovviamente molto ai film americani, anglosassoni, inglesi. Già se ci spostiamo e andiamo a vedere dei film che sono più vicini a noi, ma molto registicamente meno vicini a noi, come film tedeschi, per esempio, già storciamo un pochino il naso, figuriamoci ad andare a prendere dei film sudcoreani. Ed ecco che invece Bong Joon-ho ha, non so come si pronunci, ma credo che si pronunci più o meno così, Bong Joon-ho, ecco che ha preso veramente le rating della situazione, cioè rivalutando in maniera, non rivalutando, però portando alla ribalta quello che è effettivamente il film sudcoreano, che è veramente eccezionale. Io per esempio di Bong Joon-ho ho visto, che mi è rimasto molto impresso, Memories of a Murder, Memories di un assassino, che io sono sincero la prima volta che l'ho visto, mi ha lasciato molto perplesso, cioè ho iniziato a vederlo e mi ha lasciato molto perplesso. Non è un tipo di film a cui sono abituato, non è un tipo di recitazione a cui sei abituato. Quando lo guardi fino alla fine dici, oh, veramente, leggendo poi ovviamente anche la storia, perché non puoi, è un po' come quando vai a teatro, tu guardi un'opera, però se quest'opera non la conosci un minimo, se non hai letto quantomeno il libretto, non puoi apprezzarlo appieno assolutamente. Stessa cosa, quindi bisognava effettivamente prima leggere un antefatto, una storia, insomma, di quelli che erano gli anni in cui veniva ambientato quel film. Parasite che comunque ha preso tutti gli Oscar possibili e immaginabili più importanti, meritatissimo, e quindi cosa succede? Che 1917, altrettanto meritevole, cioè quindi era un po' un tiro di una monetina, non è semplice comunque quando hai un elenco di film così belli, sceglierne uno. 1917 non è rimasto a bocca asciutta, ma poco ci manca, e se è beccato, miglioro montaggio sonoro, miglioro fotografia e fatemi guardare perché non me lo ricordo assolutamente più, miglior montaggio sonoro, miglior fotografia e miglior fotografia, eccolo qua, datemi due secondi, non ho voglia di tagliare il video, e migliori effetti speciali, ecco, allora, migliori effetti speciali, miglior sonoro, montaggio sonoro non sto a discuterne, però sulla fotografia sì, perché? Allora, noi sappiamo cos'è la fotografia, la fotografia cinematografica, come ho già detto, non è molto diversa dalla fotografia tradizionale, in realtà la fotografia cinematografica è molto simile alla fotografia tradizionale, quindi cosa dobbiamo valutare in una fotografia normalmente per riuscire a criticarla e giudicarla? Ci sono un sacco di elementi, una delle cose che a me piace molto, per esempio, e che mi colpisce, è la color palette, infatti se guardate anche sulle mie storie di Instagram, io metto sempre le color palette delle mie fotografie, perché la scelta dei colori all'interno di un film è molto molto importante, in tal senso la color palette, per esempio, di Joker era veramente impressionante. poi cosa abbiamo? Ovviamente abbiamo gli elementi di interesse, cioè cosa ci mettono in primo piano, quanti piani vengono utilizzati, come vengono utilizzati anche questi più piani rispetto al soggetto principale della nostra fotografia, in questo caso del film, ma soprattutto la costruzione fotografica, come costruiamo questa immagine, cosa diamo importanza al cielo, alla terra, a un oggetto che è in primo piano, un oggetto che è sul fondo, cioè ci sono un sacco di cose da valutare, la divisione dello schermo, ad esempio la divisione dello schermo di Jojo Rabbit, non candidato comunque come migliore fotografia, a me era piaciuta molto, c'erano delle nette divisioni tra alcune zone, ad esempio degli interni e delle nette divisioni dello schermo, in alcuni casi in quattro addirittura, posizionando diversi alimenti all'interno dei riquadri, negli esterni, una cosa che mi ha molto molto impressionato, anche la color palette di Jojo Rabbit era molto molto interessante, con un cambio radicale di colore, non faccio spoiler, però da un passaggio, da un elemento, da un passaggio di una situazione all'altra, quindi anche il personaggio quando cambia, cambia la color palette, non entro ulteriormente nel merito. Cosa succede? Che in 1917, come si può dire? Allora, pensiamo a una cosa, io adesso vorrei mettermi in forma, voglio perdere un po' di peso, adesso aspetto la stagione bella per riprendere un pochino a correre, tempo fa correvo anche tanto, però poi insomma lavoro eccetera e il tempo passa insomma e ho preso qualche chiletto, vado a correre, quindi faccio attività fisica, che è un'ottima cosa, che mi porta a raggiungere un obiettivo, ma a me piace anche mangiare, mangiare e bere magari no, non più di tanto, però mi piace bere cose che magari non sono prettamente l'acqua, la coca cola la bevo, bevo la coca zero, ma comunque sono cose che dovresti lasciare stare, o fai una cosa o fai l'altra. E non è che una cosa in qualche modo abbia meno valore, meno peso, meno importanza rispetto all'altra. Dove voglio arrivare? Voi sapete tutti che 1917, scusate la similitudine magari un pochino a fare luogo, ma per farvi capire che non si può avere tutto. 1917, voi sapete, se non l'avete visto, lo racconto io, è un piano sequenza unico costruito, ma apparentemente un piano sequenza unico, cosa vuol dire? Che ho letto che qualcuno definisce il piano sequenza come un'inquadratura unica, sbagliatissimo, non è un'inquadratura unica, è una ripresa unica, perché durante un piano sequenza tu puoi cambiare inquadratura. Significa che, come se io adesso prendessi la mia fotocamera in questo momento, la stacco e vado in giro per il mio studio, poi esco fuori, faccio un giro per la strada, vado in centro città, vado sul lago, e tutto senza staccare la fotocamera. Quello è un piano sequenza unico, perché io cambio di posizione, cambio di location, senza staccare la fotocamera dall'inquadratura principale. Inquadratura che però può cambiare, perché se io inquadrandomi poi cambio le mie inquadrature e faccio vedere qualcosa in giro, cambio inquadratura ovviamente, ma il piano sequenza rimane assolutamente unico. 1917 è girato appunto con diversi spedienti, quindi con tipo dei passaggi al nero, delle esplosioni o altre situazioni, come piano sequenza unico. E questi spedienti fanno in modo di farti sembrare che la sequenza sia unica, in realtà ovviamente, come si può immaginare, con poco più di due ore di film, non si può fare un girato unico, molto difficile, ma è stato praticamente incollato. Cosa succede? Che nel momento in cui tu mi fai un piano sequenza unico, primo utilizzi non una fotografia, perché il piano sequenza non è una fotografia, è un espediente registico, che è stato utilizzato anche in passato in diversi film, Birdman per esempio, un bellissimo film, è un piano sequenza unico, però il problema qual è? Che limiti quelle che sono le capacità della fotografia, del direttore della fotografia, di poter costruire un'immagine utilizzando determinati criteri, tra cui ovviamente, sicuramente, la color palette. La color palette comunque la modifichi anche utilizzando altre luci, ma la color palette forse è il meno. Quello che è un po' più difficile da riuscire a raccontare con un piano sequenza unico è la costruzione fotografica, cioè con un piano sequenza unificato, praticamente un solo film, che è un unico piano sequenza, riuscire a cambiare l'inquadratura e costruire un'immagine, quindi spostarsi all'interno, allargare l'immagine, magari dando un senso di ampiezza, però suddividendo magari le zone di visione, utilizzando delle linee di fuga che magari portino al soggetto principale, espedienti che per esempio aveva utilizzato in maniera magistrale di più, Kubrick. Con un piano sequenza non lo puoi fare, perché tu sei relegato a quella che è la tua immagine. Potresti per esempio zoomare e cambiare appunto inquadratura, ma questo penalizzerebbe cosa? La visione creerebbe molta confusione all'interno della sequenza e lo spettatore sarebbe quasi confuso e probabilmente la costruzione fotografica avrebbe molto meno rispetto alla sequenza unica che si sta portando avanti e che si porterà fino alla fine del film. La sostanza è che comunque i sacrifici che si devono fare da un punto di vista della fotografia sono tanti per avere un piano sequenza unico. Secondo me il premio dato alla migliore fotografia nel 1917 è stato dato perché gli sono stati tolti sostanzialmente i premi maggiori, quindi in qualche modo qualcos'altro bisogna dare. Attenzione, attenzione a una cosa, non sto dicendo che il 1917 abbia una brutta fotografia, ma se voi andate per esempio a guardare a un'ottima post-produzione, se voi andate a guardare un... scusate, in video si chiama Color Correction, se voi andate a guardare, perché ci sono dei video su YouTube, di retroscena di come è stato girato il 1917, vedrete che da un punto di vista fotografico non c'è una grande illuminazione, anzi non c'è. Le scene, quelle in esterno, che sono veramente moltissime, sono girate con la luce naturale, che ovviamente deve essere non calibrata, però deve essere scelta bene. Non fai non giri dei film, delle scene con una luce del sole a picco o a mezzogiorno, quindi è abbastanza difficoltoso farlo, non è una cosa proprio come dirla, ma molti ritrovati fotografici, come l'utilizzo effettivamente di alcune luci, o la libertà anche solo di utilizzare degli obiettivi diversi, con un piano sequenza unico tu non ce li hai. Quindi secondo me è stato abbastanza ingannevole il premio, cioè diamo un premio in più a questo bellissimo film, che effettivamente poco c'entra con la fotografia, infatti quello che ho sentito spesso dire è, è la migliore fotografia, certo con quel piano sequenza, il piano sequenza è un espediente registico, non è assolutamente qualcosa di strettamente legato alla fotografia, che poi sappiamo benissimo che la fotografia e la regia sono due cose che spesso si sovrappongono, pensate a Kubrick, Kubrick era lui stesso un direttore della fotografia, ma la fotografia ovviamente era diversa, il direttore della fotografia, quando cercate online e cercate cosa fa il direttore della fotografia, vi viene sempre fuori, sceglie le luci, sceglie le inquadrature, sceglie gli obiettivi, sceglie il diaframma, ma la realtà è che il regista allora cosa fa? Cosa fa il regista? Il regista non sceglie il diaframma? Non sceglie lui se sfocare, dare una minima profondità di campo, se mettere tutto a fuoco, se utilizzare dei grandangoli estremi, pensate a John Ford, John Ford utilizzava dei grandangoli o meglio, ai tempi magari non c'erano proprio dei grandangolissimi estremi come ci sono oggi, però utilizzava delle inquadrature molto larghe, molto molto larghe e molto profonde, probabilmente era suggerito dal direttore della fotografia? Probabilmente sì, ma la decisione comunque ricadeva sempre e solo nel mani del regista, quindi direzione della fotografia e fotografia e regia sono due cose che tendono un pochino a sovrapporsi. Quindi secondo me è meritato o no questo 1917 premio per la migliore fotografia? Ni, perché se la vogliamo vedere nell'ottica di dobbiamo andare comunque dei premi effettivamente a 1917 perché è un gran film, allora sì, tutto sommato ci sta. Se vogliamo strettamente attenerci a quella che è la fotografia, quindi una critica approfondita e con un occhio un po' meno meno amatoriale, più professionale effettivamente, allora effettivamente nel 1917 rispetto per esempio a un Joker, no, non meritavo assolutamente la fotografia, però ripeto, se dovessimo dare dei voti stiamo parlando di un 10 a un 9 a un 8, cioè comunque stiamo parlando di livelli qualitativi veramente eccelsi, veramente eccelsi, quindi è un po' contare i chicchi di riso, cioè è una cosa molto inutile fine a se stessa, però ci tenevo comunque a parlarne. Io avevo detto nel precedente video che ne avrei parlato, ne ho voluto parlare perché è stata veramente una corsa agli Oscar molto interessante quella di quest'anno, con dei film veramente stupendi, splendidi, anche la fotografia per esempio di storie di un matrimonio mi è piaciuta molto, in stile, mi ha ricordato moltissimo Kramer contro Kramer anche come fotografia, anche se non c'entrano molto, c'entrano più come storia, però l'utilizzo anche negli ambienti chiusi nelle stanze, per esempio storie di un matrimonio, hanno utilizzato poca luce e si vedeva perché c'era molta grana, soprattutto nelle zone scure, quindi questa grana che dà un effetto film d'autore, quando ai tempi si utilizzavano delle pellicole con degli asa molto alti perché comunque non si volevano utilizzare particolari illuminazioni, si volevano utilizzare magari delle illuminazioni naturali come delle finestre o dei punti luce comunque esterni. Mi era piaciuta molto, sicuramente non da Oscar, infatti non era nemmeno candidato, però per il resto devo dire che ci sono stati di grandissimi film con delle ottime fotografie. 1917, non lo so, gran film, bellissimo, meritava probabilmente anche qualcosa di più, ma ripeto la gara era veramente serrata, qualche perplessità effettivamente sulla fotografia che secondo me è stato dato un po' come premio, tra virgolette, contentino perché di premi non ne avventi tanti o meglio, meno di quanto ci si aspettasse da questo bellissimo film. Ditemi cosa ne pensate, ditemi cosa ne pensate soprattutto del fatto che oggi non parlo di tecniche fotografiche, non parlo di attrezzatura, non parlo di altre cose, quindi come avevo già detto, tempo addietro, vorrei inserire e come enuncio il titolo comunque del canale, vorrei parlare di tutto quello che gira intorno alla fotografia e come la fotografia si sta sovrapponendo al video, il video si sta sovrapponendo alla fotografia, non possiamo assolutamente sottovalutare appunto la film, i film, le serie tv da cui comunque si possono prendere di gran spunti visto che la fotografia è migliorata, è diventata la portata veramente di tutti e anche in ambiti dove la fotografia era legata soltanto a termine tecnico, quindi film e serie, invece sta prendendo veramente tanta, tanta, tanta importanza. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella che trovate qua sotto, lasciatemi come solito un commento, date un occhio al canale Telegram di offerte fotografiche che trovate tutto qua sotto, tutto qua sotto trovate in descrizione, date un'occhiata anche il mio canale Instagram, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!